Puoi accedere all'editor Supersite tramite il pannello di controllo del dominio. Per iniziare, collegati alla pagina admin.aruba.it. Inserisci lo username Aruba, la password e accedi. Se allo username è associato un solo dominio, l'accesso avviene direttamente. Se allo username sono associati più domini, indica quello su cui è attivo il servizio. Dal menu di sinistra, clicca Applicazioni. Dal box Supersite, clicca Gestisci. Al primo accesso al pannello di gestione, devi effettuare la configurazione del sito web. Per procedere, segui quanto riportato sullo schermo. Digita la categoria che meglio descrive la tua azienda e ulteriori dettagli richiesti. È possibile saltare questa prima configurazione cliccando il pulsante Salta questo. In tal caso verranno utilizzate immagini ed impostazioni di default, altrimenti continua. Seleziona lo stile desiderato tra quelli disponibili e prosegui. Infine, seleziona la pagina iniziale del tuo sito. Supersite è responsive, ottimizzato per la fruizione anche da mobile e persino l'editor può essere utilizzato facilmente da smartphone o tablet. Clicca Crea il tuo sito web. A questo punto è possibile gestire il sito tramite il menu superiore, composto da diverse voci. Il menu Aggiungi il contenuto consente di aggiungere una sezione o un widget. Il menu Design consente di cambiare stile, colori e caratteri. Il menu Homepage consente di aggiungere, clonare e rinominare le pagine, ma anche di spostarsi sulla pagina che si vuole editare. Utilizza il pulsante Anteprima per visualizzare l'anteprima delle modifiche apportate al sito. Il pulsante Pubblica consente di pubblicare le modifiche. Inoltre puoi utilizzare il menu di sinistra per cambiare il colore, inserire un'immagine e un'animazione e modificare il layout o lo stile grafico. Per l'utilizzo di questi strumenti, consulta le videoguide dedicate. Clicca su Pubblica per rendere pubbliche le modifiche a tutti gli utenti. Confirma la pubblicazione allo step successivo. Un'animation Grazie a tutti.